Grazie, signor Presidente. Ringrazio ovviamente tutti i colleghi che sono intervenuti. Il Governo condivide e si associa alle parole che sono state pronunciate dal Presidente, da lei Presidente e da tutti i colleghi. 1910 morti, 1910 vittime innocenti. Vittime innocenti non, lo avete ripetuto anche voi, non vittime di una disgrazia, ma vittime di una tragedia. La memoria e il ricordo. Che senso hanno la memoria e il ricordo a distanza di 50 anni? Hanno un senso proprio perché la memoria e il ricordo sono le fondamenta di uno Stato, di un Paese, sono le fondamenta di una cultura. Se ci insegnano oggi quale insegnamento ci dicono e ci dice questa memoria e questo ricordo nell'azione del presente ci proiettano verso le azioni del futuro. Io mi sono, avendo ascoltato anche i vostri interventi, segnato quattro brevissimi punti che danno contenuto e declinano questa memoria e questo ricordo della tragedia del Vaillon. La prima era una tragedia prevedibile, era una tragedia evitabile, era una tragedia che ha gravi, gravissime responsabilità come è emerso poi dalle indagini successive. E allora è evidente che il primo insegnamento non può che essere riguardo alla responsabilità di chi governa, di chi fa politica, di chi rappresenta le istituzioni, di chi fa impresa, di chi progetta e programma gli interventi sul territorio. Tutte queste azioni devono comunque sempre essere ispirati e giudicati da una domanda comune. servono e aiutano al bene comune di un Paese, di una popolazione, di un territorio. La seconda, la grande solidarietà e le virtù civiche che sono emerse come sempre emergono nella storia del nostro Paese che fanno grande l'Italia. La terza, sviluppo infrastrutturale e difesa del territorio possono e debbono andare di pari passo. Non devono esserci nessun compromesso nella difesa dell'ambiente, nella difesa dello sviluppo del territorio, ma dobbiamo anche, grazie alla cultura e alla coscienza di un Paese e di una classe, spero politica, capire che difesa del territorio, salvaguardia del territorio, realizzazione di piccole, medie e grandi infrastrutture devono essere l'obiettivo che ci permettono di rendere un Paese più grande, più adeguato allo sviluppo della competitività, ma contemporaneamente più attento alla salvaguardia del proprio ambiente. E infine faccio mia la risoluzione della Commissione Ottava, che ringrazio come sempre per il lavoro puntuale che svolge anche di sollecitazione all'azione del Governo. C'è una sfida se tutto questo non può e non deve rimanere solo un ricordo del passato. Qual è lo spazio, quali sono le risorse che un Paese come il nostro dedica alla manutenzione ordinaria e straordinaria di un territorio, alla prevenzione del dissesto ideologico, ad una pianificazione di un territorio che si dà come priorità più che lo sviluppo, il recupero e la riqualificazione, in una parola ovviamente ad una politica anche infrastrutturale che vince la sfida di rendere più qualitativamente competitivo, più attento alla salvaguardia del territorio, più attento all'interesse dei cittadini il nostro Paese e la nostra azione politica. Grazie.